La concezione delle donne nel nostro paese deve essere completamente ribaltata e questa ha la forte volontà di cambiamento come ha spiegato Stefania Croggi, segretaria generale della FLAI CGL che ha riunito centinaia di lavoratrici provenienti da tutta Italia per la seconda assemblea nazionale delle donne organizzata dalla categoria dell'agroindustria. Un'iniziativa valuta dalla FLAI perché la questione femminile deve essere posta con forza al centro dell'agenda politica nazionale. Presenti per il dibattito Cristiana Coppola, vicepresidente di Confindustria e Susanna Camusso, segretaria generale della CGL. Donne, democrazia e rappresentanza, una questione da porre con forza al centro dell'agenda politica del nostro paese e la FLAI con la seconda assemblea nazionale delle donne della categoria compie un passo importante in questa direzione. Qual è il senso e il significato di questa iniziativa di oggi? È continuare quel movimento che è nato il 13 febbraio nelle piazze di tutta Italia e in maniera spontanea come sta accadendo anche oggi. Questa era un'assemblea nata per 300 persone, siamo diventate 750 in maniera assolutamente naturale e vuole dimostrare quanto sia sentito entro il sindacato e fuori dal sindacato la tematica della centralità della donna. Donna come persona, libera di decidere, non obbligata a scegliere. Donna protagonista e protagonista di un cambiamento che è assolutamente necessario in questo paese. Donna che sarà presente assolutamente in piazza il 6 maggio perché di questo cambiamento il 6 maggio è una tappa molto importante. Donne che vogliono dimostrare con la loro presenza qui oggi quanto sia forte il legame tra il corpo dell'organizzazione e il suo segretario generale e quindi le scelte da compiere, da condividere e da portare avanti.